Con Mr. Bianchini al termine di FC Arzegnano Valchiampo, calcio caldiero, il derby Veneto vinto 4 a 2 dall'Arzegnano. Mr. intanto complimenti a te e tutta la squadra. Partiamo proprio da qui, da una vittoria, una vittoria sofferta, una vittoria difficile e arrivata con le quattro reti dei tuoi uomini. Analizziamo il match. È stata una partita dura, perché loro sapevamo che era un'ottima squadra, collaudata, rodata, però penso che sia anche una vittoria meritata, perché se si va a contare le occasioni ne abbiamo avuto molte di più noi. Primo tempo equilibrato, secondo tempo meglio noi, dovevamo chiuderla prima, non dovevamo fare anche il quarto gol, e dopo abbiamo subito il secondo. C'è stato un minimo di apprensione, però alla fine abbiamo gestito bene. Tante le occasioni, come appunto hai già anticipato anche tu, Mr., nel corso della partita. Ripetiamo quattro le reti. Andiamo a vedere come era stata preparata la partita e come poi in campo, Mr., hai ritrovato i tuoi giocatori. Sapevamo che era una partita tosta dal punto di vista del temperamento. Loro sono una squadra che ha in corsa, che ha in qualità, che ha in fisicità, ci siamo fatti trovare pronti. Devo fare veramente i complimenti ai ragazzi, perché anche questa settimana l'hanno preparata bene e stanno raccogliendo i frutti del lavoro. Un'altra importante vittoria che ci porta alla trasferta della prossima settimana sul campo di Mestre. Ecco, chiudiamo proprio con uno sguardo alla settimana che verrà e alla prossima giornata. Sì, sì, ma adesso ci godiamo la vittoria per questa sera. E poi pensiamo a preparare la partita di Mestre nel miglior modo, consapevoli che dobbiamo sempre mantenere altissime intensità durante l'allenamento e poi lo si ritroverà in gara. Mister, grazie e buon lavoro. Grazie a voi.